Marche in zona arancione, ecco cosa cambia da oggi Manifestazione contro il Green Pass si trasforma in picnic in piazza Addio a Marcello Di Bella, uomo della cultura pesarese e riminese Caro Bollette, prove di dialogo fra società sportive e regione Sport respira la VL e scivola la vis, caos al Fano Buona serata a voi amiche e amici di Rossi Ben ritrovati a Rossini News, il nostro primo telegiornale di questa settimana Primo appuntamento con l'informazione serale in questo lunedì 7 febbraio Che contrassegna il passaggio delle Marche da oggi da zona gialla a zona arancione Ma da quando esiste questa divisione in fasce cromatiche dell'Italia Mai le differenze sono state così limitate Perché come spieghiamo in questo primo servizio L'unico colore che effettivamente conta e che fa davvero la differenza Al momento è il verde del Green Pass Da oggi 7 febbraio le Marche sono passate da zona gialla a zona arancione Rientrando fra le uniche sei regioni italiane in questa fascia cromatica Marche che sono anche le ultime ad essersi aggiunte a questa mezza dozzina di paese Che, provvedimento discutibile o meno, viene etichettata come più complessa A livello di sforamento di parametri sanitari Per quello che riguarda i dati delle ultime settimane Ricoveri su tutti Di fatto però è una variazione più di forma che di sostanza Considerato che di cambiamenti per i vaccinati E di conseguenza per chi ha il Green Pass rinforzato Davvero non se ne vedono Da oggi sono invece un po' più limitati gli spazi di manovra per chi non è vaccinato Senza nessuna forma di Green Pass infatti si può accedere nei negozi Tranne in quelli interni ai centri commerciali E si può sempre accedere a rivendite di generi di prima necessità Quali farmacie, ottici o distributori di carburante A cambiare sono gli spostamenti Senza Green Pass si può infatti uscire dal comune Solo per comprovate necessità, esigenze lavorative o motivi di salute Per comprovarlo basterà però l'autocertificazione L'avere almeno il Green Pass base Ovvero l'avere effettuato un tampone con esito negativo Aggiunge il poter andare da parrucchiere, barbiere, centro estetico Oltre ad accedere ad uffici pubblici, banche e poste Anche in arancione il Super Green Pass è invece il requisito necessario Per accedere ai mezzi di trasporto pubblici Per andare in albergo, frequentare bar o ristoranti Accedere a palestre o piscine oppure svolgere sport di squadra Così come per fruire di luoghi di cultura e intrattenimento Quali cinema, teatri, mostre, stadi e palasport E come detto nel servizio che avete appena visto Senza Green Pass rinforzato Non si può ad esempio accedere al servizio al tavolo di bar e ristoranti A questa limitazione c'è chi è ragito con un singolare flash mob di protesta Quello che è avvenuto ieri a Pesaro in Piazza del Popolo E che vi mostriamo in questo servizio Alla vigilia dell'entrata delle marche in zona arancione Che da oggi irrigidisce ancora di più il raggio d'azione per i cittadini non vaccinati Oltre un centinaio di pesaresi contrarie al Green Pass Si sono dati appuntamento in Piazza del Popolo domenica pomeriggio Per una civile quanto provocatoria manifestazione di dissenso Contro la certificazione verde E in particolare contro l'obbligo di Green Pass per accedere a bar e ristoranti Le immagini postate dalla pagina Facebook del Movimento Io Apro Mostrano infatti come le persone in questione Abbiano organizzato un picnic improvvisato Apparecchiando tavolini attorno alla fontana della piazza E abbiano pure banchettato sulla stessa fontana Questa volta una manifestazione senza cartelli o cortei Ma un flash mob costruito su tovaglie, piatti, bicchieri, snack e bibite Umberto Carriera, fondatore del Movimento Io Apro, ha offerto le pizze portandole dal suo ristorante Un aperitivo no Green Pass che è stato replicato in altre piazze italiane Come a dire, al ristorante mi viene vietato di andare Ma posso sempre mangiare all'aperto e in compagnia E se l'opzione è il confine del tollerabile Lo è molto meno presentarsi quasi tutti senza mascherina in viso E contravvenendo alla richiesta di distanziamento sociale E marca è dunque in arancione Ma con la beffa che da inizio febbraio È quotidianamente diminuita l'incidenza da contagio Che oggi attesta la nostra regione A 1714 casi ogni 100.000 abitanti Quando a fine gennaio si sfiorava quota 3.000 Pochi tamponi registrati oggi Con 1.022 episodi di contagio Di cui 144 in provincia di Pesaro e Urbino Lieve calo dei ricoveri Ora sono 377 di cui 52 in terapia intensiva Purtroppo ci sono altri 10 morti Di età compresa fra 75 e 90 anni E domani alle 15.30 Alla camera mortuaria di Muraglia Si terrà una cerimonia di ultimo saluto A Marcello Di Bella Grande uomo di cultura pesarese Venuto a mancare questo weekend All'età di 75 anni Nelle ultime ore sono arrivati tanti messaggi di cordoglia A cominciare dal sindaco Vice sindaco di Pesaro Matteo Ricci e Daniele Vimini Che ne hanno ricordato lo spessore Di costante animatore del dibattito cittadino Ma anche Giuseppe Paolini Presidente di una provincia di Pesaro Rubino In cui Di Bella fu assessore alla cultura Dell'ente dal 95 al 99 E ideatore di numerose iniziative E manifestazioni di successo Come Sipario e Ducale Cordoglio anche di Brunella Paolini Direttrice della biblioteca oliveriana Che proprio da Di Bella Fu precedentemente diretta In lutto anche la Romagna Dove fra le tante attività svolte Di Bella diresse anche la biblioteca Gambalunga di Rimini Così come quella di Cattolica E torniamo a parlare del caro Bollette Un tema che sta mettendo in ginocchio Tante realtà lavorative Tra cui le società sportive Soprattutto quelle che gestiscono impianti Come piscine e palestre E sulle quali la Regione Marche Cerca di capire quali sono I margini di sostegno praticabili Quella bolletta da 107 mila euro Che mostra scadenza di pagamento Nel giorno di San Valentino Ha già fatto il Giro d'Italia A postarla su Facebook Due settimane fa Fu la Sport Village di Pesaro Società che gestisce la piscina olimpionica Del Parco della Pace E che si è vista recapitare un'utenza del gas Con una cifra che è diventata La cartina torna sole Del precario stato di sopravvivenza Delle società sportive Che hanno meno praticanti Hanno avuto meno giorni di apertura E ricevono bollette insostenibili 107 mila euro contro i 37 mila Dello stesso periodo dell'anno del 2019 Per quel che riguarda la piscina pesarese Andare avanti così è impossibile Ed oggi è cominciato un confronto Fra i gestori di piscine regionali E la stessa amministrazione Acquaroli Per capire come si possa andare avanti Parallelamente i consiglieri regionali del PD Andrea Biancani e Micaela Vitri Hanno previsto una interrogazione dedicata Alla previsione di sostegni economici Che potrebbe già essere esaminata Nel consiglio regionale di martedì Quello che chiedo è alla regione Di prevedere delle risorse A sostegno delle realtà sportive pubbliche Ma anche private Perché lo sport Il mondo dello sport sta avvenendo Da due anni molto difficili Due anni che a caso della pandemia Hanno visto ridurre la quantità di persone Che hanno continuato a fare sport E dall'altra parte si è anche ridotto Il numero di giorni Di aperture Di giorni in cui era consentito fare sport A fronte di queste riduzioni Si ha un aumento dei costi di gestione In particolar modo la mia richiesta È rivolta per quelle realtà sportive Che gestiscono degli impianti In particolar modo le piscine Ma le stesse palestre O i campi sportivi Cioè tutte quelle realtà sportive Che hanno costi elevati di energia O legate al gas O legate alla corrente elettrica Quindi la richiesta è che la regione Si faccia carico di prevedere delle risorse A sostegno delle realtà sportive Perché lo sport è importante Risorse che ovviamente non devono andare Come dire Essere alternative rispetto a quelle Che lo Stato riuscirà a mettere in campo Ma devono essere risorse aggiuntive E negli ultimi mesi sono sempre di più I bambini vaccinati al Covid-19 E ancor più quelli che sono costretti A sottoporsi a tamponi ripetuti A questi ieri L'EMPA, ente protezione animali di Pesaro Ha voluto fare un piccolo regalo L'album e le figurine degli animali Che salvano proprio gli animali Stamattina siamo qua A dare un premio a tutti i bambini Che sono venuti a farsi vaccinare E il premio è l'album delle figurine 2022 Dei nostri cucciolotti E niente Quindi li stiamo donando Sperando che poi possono andare avanti Riempiendo l'album con le figurine E di conseguenza fra una mesata Faremo probabilmente il primo grande scambio I bambini sono contenti E l'idea di avere un premio Gli è piaciuta Anche diciamo Chiamano un incentivo Per i bambini più piccoli Per vaccinarsi Certo, certo, senz'altro E poi comunque è sempre un album Abbastanza interessante Per tutte le notizie Che riguardano gli animali E oltretutto La casa editrice Per questa Chiamiamolo così Per questa attività Regala poi a noi Pancali di cibo Per gatti o per canni Da dare ai bisognosi Ed i bisognosi ce ne sono tanti Prossimo appuntamento Mercoledì 9 febbraio Dalle 15 alle 17 Alle 5 torri Con altra consegna di album Di figurine e bambini Al nuovo hub Di vaccinazioni pediatriche Di Via Nanterre Dai sorrisi Alla commozione Quello di oggi 7 febbraio Un giorno molto particolare Per l'EMPA Perché esattamente Un anno fa Morivano due volontari Staffettisti Nell'autostrada A14 Proprio tra Pesaro E Cattolica Si chiamavano Elisabetta Barbieri E Federico Tonini E avevano 63 e 47 anni La prima Una figura molto nota Nell'associazione a livello nazionale Il secondo Era il suo primo viaggio Da staffettista Entrambi erano milanesi E entrambi morirono All'alba del 7 febbraio A bordo di un furgone Che trasportava 50 cani E 10 gatti Partito dalla Puglia Diretto alla Lombardia Fermandosi in varie tappe Dedicate alla consegna Degli animali da adottare Alle 5 di mattina All'altezza di Gradara Si trovarono però Di fronte ad un tir incidentato Che non riuscirono Ad evitare Morendo sul colpo Una tragedia Che si mescolò All'impegno Delle guardie Ezofile pesaresi Che si precipitarono Sul luogo dell'incidente Per soccorrere Gli animali feriti E ritrovare Quelli fuggiti E le immagini Che vi mostriamo Ora si riferiscono Invece ad un altro Anniversario Ma di 7 anni fa Ovvero Quello della Colossale mareggiata Che nel 6 febbraio 2015 Si abbatté Su Pesaro Concedendo Anche con un'altrettanto Gigantesca Piena del fiume Foglia Pioggia incessante Vento Trombe d'aria Si abbatterono Sul litorale Portando danni ingenti Soprattutto Agli stabilimenti Balneari Come si evince Da queste immagini Immortalate Anche alla presenza Del sindaco Matteo Ricci E dalla perturbazione Di 7 anni fa Passiamo Alle forti Raffiche di vento Che hanno sferzato La regione Marche Nella notte Appena trascorsa Notata e mattinata Che hanno chiamato I vigili del fuoco A effettuare 60 interventi Per la rimozione Di alberi O rami Caduti Sulla strada La zona più colpita È stata la collina Interna al Pesarese Zona più impegnativa Con bene 30 interventi In una situazione Che però al momento Non ha registrato Danni rilevanti Spegniamo Le luci Della città E questa L'iniziativa Coordinata Dalla Lega Delle Autonomie Locali Italiane Alla quale Pesaro parteciperà Giovedì 10 febbraio Assieme a tante altre Città italiane Per sensibilizzare Il governo A azioni concrete Contro crisi energetica Inflazione E bollette Dalle ore 20 Anche a Pesaro Verrà dunque spenta Per mezz'ora L'illuminazione Di alcuni monumenti Simbolo Della città È stato appena Archiviato Il festival Di Sanremo Con l'apprezzatissima Drusilla Foer Che ora è pronta A essere applaudita Anche dal pubblico Di Pesaro Passando dall'Ariston Al parco Miralfiore Il suo nome È infatti Già previsto Per la rassegna 2022 Di Miralteatro Ma è ancora Da definire La data Della sua performance Il teatro Sperimentale Di Pesaro Rinnova L'appuntamento Con la danza Per la stagione 2022 Su iniziativa Di Comune E Amat Partendo Da una riflessione Sull'attuale evento Pandemico Il coreografo Fabrizio Favale E la compagnia Le supplici Inaugurano Il cartellone Venerdì 11 febbraio Inaugurano il cartellone Venerdì 11 febbraio Con Alce Un lavoro Di forza E bellezza Che approfondisce Una tematica Indagata Da lungo tempo E fonte Di invenzione Di diversi lavori Ovvero La presenza animale E il nostro rapporto Con essa La danza di Alce È affidata A Daniele Bianco Martina Danieli Francesco Leone Claudia Gesmundo Alessandro Giacchetti Giuseppe Morello Mirko Paparusso Andrea Rizzo E Valentina Staltari E arriviamo All'appuntamento De settimanale Con lo sport Del lunedì Un lunedì Che apriamo Parlando Della vittoria Fondamentale Per la VL Che torna Al successo Nello scontro Diretto Con Cremona Mentre perdono La Vispesaro Nelle calcio E la Megabox Vallefoglia Nelle volley Non ha giocato Invece L'Alma Juventus Fano Ma è stata Protagonista Di un episodio Destabilizzante Per i futuri Societari Del calcio Granata Ci spiega tutto Il servizio Di Edoardo Razzi Un successo L'ottimo inizio Inizio di partita Quella accumulata Per una brutta sconfitta A Brescia Una con delle recriminazione A Trieste Ed un'altra Molto più grave Siamo fatto La posizione La posizione in classifica Un'altra La squadra Inizio di partita Dobbiamo pensare Tre partita Si può parlare Il nuovo rinforzo È sempre la serata Domattina Con Buongiorno Rossini La nostra segna stampa Dei quotidiani Locali Che vi tiene compagnia Dal lunedì al sabato Sempre in diretta Dalle 7.20 Domattina Sarà con voi La nostra Emanuela Rossi E vi anticipiamo Anche la prima serata Di domani Perché è la prima Di cinque puntate Di un ciclo Di documentari Davvero suggestivo Realizzato Da un'idea Di Gastone Mazzanti Si intitola Una volta A fan Cereni Campanì Titolo dialettale Per raccontare Una storia Di epoca bellica Della seconda guerra mondiale Accaduta Proprio Nella città Di Fano Prima puntata Domani Martedì 8 febbraio Alle 21.20 Ed è davvero Tutto per questa Sera Ora ci sono Le previsioni Del tempo E vi auguro Un buon proseguimento Di serata In compagnia Dei programmi Di Rossini TV